Che bella l'animazione di quando entri nel portale E siamo ritornati qui Grazie Olive Ok Va bene ci penso io Prima però Prendiamo la cesta Medicina piccola Prendiamo tutti i materiali Cremisi che troviamo Che questa roba ci serve Per salire di livello O meglio per livellare Il nostro Legion Ecco fatto Per come è strutturata Secondo me la storia Cos'è quella roba Posso sparare Ok Va bene L'ho distrutta perlomeno Era sicuramente una pianta velenosa Stavo dicendo Per come è strutturato Probabilmente la storia del gioco Secondo me Nostro padre è ancora vivo È ancora vivo Per ora Ma Probabilmente muore Probabilmente muore più avanti Questo posto è mega suggestivo Comunque Cioè non sarà niente di Di eccezionale Per carità Però ti mette una mezza suggestione Mica male Anzi Qua sicuramente Zona boss Secondo me Mi ricorda molto Anche il memento Di persona 5 Quello si Uh il tizio con lo scudo Attacco sincronizzato Sì lo sappiamo Ok Oh calmo Prendilo Ecco fatto Cambiamo arma Vai Ricatturalo Colpo di grazia Distrutto Codice genetico Più 86 Bene Mica male Un altro Cos'è? L'ha fatto evolvere Care Quella Allora Aspetta che Ho già capito Allora No 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 Fermo Porca putta È difficile Da Oh e finalmente Volevo Sfruttare bene La catena Colpo di grazia Colpo di grazia Sta cosa dei colpi di grazia È bellissima Prendi quel materiale Oh altri Colpo di grazia Perfetto Perfetto Vieni qui Distrutto Colpo di grazia Perché così ci prendiamo un sacco di punti extra Ci aumenti No Ho sbagliato Colpa mia Vieni qua Preso Aumentiamo il nostro attacco Colpo di grazia Ma mi sembra che mi sto Abituando molto meglio Mi sto abituando Estremamente meglio Al gioco All'inizio avevo Delle difficoltà Mica male Vediamo Una D Chissà come mai Avevo delle difficoltà Mica male Con il gioco All'inizio Ora bene o male Sto cercando anche Di capire Le meccaniche Migliori di combattimento Andiamo dall'altra parte Così Vediamo anche Se c'è una cesta Da aprire No no Non mi sembra ci sia Una cesta Ah no Invece c'è una cesta Sto dicendo Non mi sembra ci sia una cesta Ma c'è un sacco di materia Da recuperare Ecco appunto Vediamo Una medicina media E un carica indicatore Ok E ci sono dei nemici In lontananza E qua invece C'è un altro passaggio Vediamo Magari c'è nascosta Una cesta Allora Non c'è nascosta Una cesta Aspetta Ma è un cristallo Quello Aspetta Ho capito Allora calmo Devo mettermi io In posizione Qua Ecco fatto Mi serviva per fare Il salto Questo C'è una pianta Che sputa Veleno Per adesso Eccola qua Ecco fatto Beh ci sono un sacco Di zone nascoste Nel gioco Mica male Mica male Allora Lì c'è un'altra Cesta Saltiamo Anche da questo Lato No Porca puttana Gli elementi Che si mettono In mezzo Ogni volta Mettiamoci Qua Ecco fatto Vai a prenderti Tutta la materia Qui che cos'altro C'è Il cristallo Facciamo La curva Oh calmo Merda Grazie di avermi salvato E sai cos'è La catena Che è corta Qui è la catena Che è corta Ecco fatto L'ho tirato troppo E il giui Giustamente Mi ha tirato a sé Codice materiale Raro Che culo E ora Possiamo Torna indietro Dobbiamo rifarci Tutto il percorso Però Bella zona Nascosta Questa Ti dirò Che non mi è dispiaciuto Farla Madonna Che combinazione Volante Che gli stiamo facendo Non so se era perché Eravamo in una zona Elevata per via Delle scale O perché lui Era scemo Ed è volato via Però Porca miseria L'abbiamo sfondato Colpo di grazia Stiamo migliorando Stiamo migliorando Sicuramente Quello è poco Ma sicuro Raggio assorbimento Bella Scusami Che cosa abbiamo appena preso Possibilità di ripristino Indicatore d'attacco 300% Che cosa vuol dire Esaurimento Indicatore Meno 18% Questo è buono Invece Perché così Legion dura di più Prendiamoci la cesta Direi che siamo arrivati Ok Ci penso io Allora Secondo me Come ho detto io È il Legion Arciere Già Sì Non ti preoccupare Ce la farò In realtà Non ti troverai Quasi mai A corto di Di curo Comunque di oggetti Ogni Ogni zona che vai C'è almeno una cesta In cui c'è Come si chiama C'è almeno una cesta In cui ti trovi Almeno una medicina Sì lo so Grazie Ecco fatto Qua ci sono delle scale E lì si prosegue Vediamo cosa c'è di sopra Prima Che non si sa mai Che si nasconde Un'altra cesta Ovviamente E magari anche Della materia Cremisi di volante Che non si sa mai Anche lì è Medicina grande Solo questo Strano Allora Vediamo Dove si prosegue Va bene Ci vado subito Non ti preoccupare Che tanto Siamo qui per quello Quindi perché Continui a chiamarmi Per dirmi Vai a controllare Lo sto già facendo Grazie C'è un drone Ah il drone giallo Aspetta Allora Prima di tutto Fermi tutti Sì 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 Lo so Volevo vedere Cosa c'era In questa zona Prima Volevo prendere Un po' di materia Sporca È il drone giallo Di cui parlavano Va bene Vediamo Se possiamo fare qualcosa Sì sono una donna Sì Ehi Tu che cosa ne sai Della Neuron Perfetto Va bene Che sono dispersi Fammi indovinare Da quella parte Ma tu sei Un drone Controllato da qualcuno O autocontrollato Cioè se ti autocontrolli O ti controlla qualcuno Giroscopio Eh lo so Mica peraltro Lavoro nella polizia Dov'è l'ascensore Eccolo qua Qua sotto C'era qualcosa Cosa si Ecco fatto Oh calmo La ruota in titanio Perfetto Grazie Carica indicatore Perfetto Ok scendiamo qua sotto Vediamo cosa c'è nella cesta Una medicina media E una piccola E ora possiamo Proseguire Sull'altro Ascensore Prendi Tutta la materia Dove vai Qua Bravo Ed eccoci arrivati Dovremmo Aver trovato Tutti i pezzi Cavo video No ce ne manca ancora uno Va bene Codice materiali Perfetto Aspetta che arrivo Eccomi qua Perfetto Ciao Segnale sconosciuto Quindi Beh puoi farlo Trovando la ragazza Quello ci penso io Non c'è problema Va bene Bravo drone E allora Proseguiamo Grazie mille 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 Grazie a tutti.